Se il gioco T6G Card Shop Simulator non si avvia sul tuo computer è possibile risolvere il problema aggiornando i driver sul tuo sistema operativo oppure aggiornando i driver della scheda grafica. Quindi in questo caso se hai una scheda grafica Nvidia andiamo direttamente sulla pagina che ti ho lasciato in descrizione del programma Nvidia App. Scarichi così la beta, la installi, una volta installato basta che scrivi qua sopra Nvidia. Vai direttamente su driver, cerchi driver da aggiornare su driver game ready per i giocatori e questo driver studio invece per chi usa il computer per lavorare. Quindi tu devi selezionare questo qua per giocare. Clicchiamoci sopra per vedere se ci sono aggiornamenti e l'ultimo aggiornamento che ho fatto è del primo di ottobre 2024. Quindi aggiornare sempre la scheda grafica aiuta a mantenere sempre i giochi attivi senza nessun problema. Se invece è un problema direttamente su Windows 10 o Windows 11 ti consiglio di scaricare e reinstallare di nuovo Windows 11 attraverso crea il supporto di installazione per Windows 11. Scarichi, installi e ti dirà anche di mantenere tutti i tuoi file. Quindi tu mantieni i tuoi file e riscarica e quindi reinstalla di nuovo Windows 11. Oppure semplicemente tasto destro su start, gestione dispositivi. Scendi fino a giù fino a trovare schede video. La tua scheda video aggiornata driver. Cerca il driver nel computer. Scegli da un elenco di driver disponibili. Selezioni così la prima. Fai avanti, scarichi e installi così il driver. Se non dovesse bastare, tasto destro sul gioco. Mostra attrapezioni, proprietà. Compatibilità. Disabilità, ottimizzazioni, schermo intero. Esegui questo programma. Questo programma come amministratore. Facciamo applica e facciamo ok. Se invece ci sono alcuni errori, tipo file danneggiati sul sistema, è possibile risolvere il problema scrivendo qua sopra cmd. Apri così il prompt dei comandi come amministratore e facciamo sì. Scrivi qua sopra sfc spazio slash scanno il comando che ti aiuterà a ripristinare i file danneggiati sul sistema e fai invio. Mentre fa l'analisi, andiamo un attimo a scaricare e installare un altro software che si chiama DirectX Runtime. Download questo qua web install DirectX and use Runtime. Scarichiamo e installiamo così questo supporto per le schede grafiche per il DirectX 11, 9 e 10. Accettiamo il contratto, fai avanti, non installare questo Bing Turbo, fai avanti, scarica e installi il Microsoft DirectX. Io lo tengo già installato sul mio sistema e faccio annullo. Un altro link che ti ho lasciato in descrizione è il Microsoft Visual C++ ed eccolo qua. Più recenti download supportati di Microsoft Visual C++. Visual Studio 2015 fino al 2022, tu devi scaricare e installare gli ultimi due. Scarichiamo. Installo tutti e due. A me dice di fare il ripristino perché li tengo già installati sul sistema. Quindi faccio ripristino a questo e ripristino anche quest'altro. Ok. Una volta installato o ripristinato così il software, fai chiudi e facciamo chiudi anche questo. Qui invece sta ancora facendo l'analisi, quindi poi una volta fatto l'analisi ci aiuterà a ripristinare tutti i file danneggiati che abbiamo sul nostro sistema. E' un'altra volta è fatto, basta che scrivi sul CMD proprio dove sta questa tacchetta lampeggiante, exit, scrivi exit e poi riavvia il sistema. Ok. Poi i danneggiati trovati e ripristinati, come ho detto, exit qua. E prova ad avviare il gioco. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. 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 Ciao.